Mary Jane ASMR allora ok, vediamolo un attimino si sono arrivati tutti gli olivini della mia collezione ok con una make qui e l'altra con una pure perfetto anche l'altra ancora beh, credo che le mie creme rimarranno soddisfatte si si lo vediamo un attimo tutto tutto ecco allora queste ore qui le dobbiamo sistemare nella vetrina lì fuori queste qua la collezione la prendiamo dentro è meglio le orechini vediamo se qui non ci stanno no qui non ci stanno lì è già tutto pieno ok va bene allora salve buonasera buonasera a lei signora benvenuta nella gioielleria di happiness boutique come come posso aiutarla ha voglia di fare un regalo per quale occasione un compleanno ok ha già qualche idea o le do io un consiglio le faccio vedere qualcosa non lo so mi dica lei guardi è indecisa allora guardi le dico una cosa infortunata perché a partire da oggi 28 novembre fino al 31 dicembre nella gioielleria di happiness boutique può avere uno sconto del 10% utilizzando il codice sconto Mary Jane smr valido su ordini o su acquisti come nel suo caso che adesso leghi qui di 29 euro minimo quindi una spesa davvero irrisoria per poter avere lo sconto ma doppiamente fortunata perché fino al 15 di dicembre oltre a questo sconto che si protrae fino al 31 di dicembre fino al 15 di dicembre può cumulare ulteriori vantaggi insieme allo sconto già del 10% di cosa le sto parlando allora se lei fa un acquisto di almeno 30 euro l'azienda happiness sarà lieta di regalarle un gioiello sorpresa si proprio così ma non finisce qua se acquista un prodotto o più prodotti e spende almeno 70 euro l'azienda happiness boutique le regalerà due ulteriori gioielli sorpresa quindi sceglierà l'azienda per lei e se invece spende almeno 119 euro happiness le regalerà tre gioielli sorpresa chiaramente si li potrà ricevere a casa certo certo quindi doppi vantaggi per scegliere happiness si certamente si cumulano esatto può usufruire anche del 10% di sconto se utilizza il mio nome Mary Jane smr tanto le lascerò tutte le info tranquilla allora ho visto e ho notato che sto sorridendo alla grande mi fa piacere sa proprio questa mattina stavo allestendo la vetrina e il bancone qui dietro e devo ancora finire di aggiustare tutto perché sa sta arrivando Natale quindi voglio che ci sia un bel po' di cose da vedere devo ancora finire di sistemare però proprio stamattina sono arrivate delle chicche particolari delle collane di happiness davvero molto interessanti se il compleanno è per una ragazza gliele mostro o per una signora gliele mostro ok quindi il compleanno di una ragazza bene questi gioielli sono perfetti comunque per tutta l'età allora io le voglio subito mostrare l'ultimissimo arrivo e vediamo se le piace si gli adoro questi gioielli si anche io li indosso certo si puoi scegliere la colorazione argento oppure oro oppure oro rosa gli faccio vedere quello che ho a disposizione ok poi sceglierò magari la versione allora il primo gioiello molto particolare che le voglio far vedere è questa collana snake chiamata collana serpente veste il collo in maniera suprema e la guardi più da vicino allora sicuramente questa collana non so se lei vuole regalare qualcosa di molto semplice o un po' più vistoso però sicuramente questa collana non è minimal non è semplice ma non è neanche troppo evidente quindi questa credo che vada bene per tutte quelle persone che sono indecise se indossare qualcosa di molto evidente o molto sottile io infatti che di solito opto per le cose per le collane abbastanza sottili e minimal quando ho visto questa collana che a me piace tantissimo perché l'ho presa anche io me ne sono subito innamorata perché è veramente semplice ma allo stesso tempo evidente ok si la maglia della collana è così molto delicata molto delicata come puoi vedere e poi si chiude da qua questo è l'arrivo di oggi avevo già visto il catalogo e ho già acchiappato questa collana perché anche io compro si si allora allora facciamo una cosa io adesso la collana la poso qui vuole vedere qualcosa sul rosato ok anche questo è un po' più evidente ma non pacchiano assolutamente anche questo prodotto ed è in oro rosato allora puoi scegliere di acquistarle singole oppure insieme perché sovrapposte sul collo sono stupende vede com'è questa collana si si vende anche così il prodotto così come lo vede infatti nella scatolina è conservato così certo sono due collane distinte separate ora ora le faccio vedere meglio ok iniziamo da questa bellissima collana come le dicevo prima queste sono proprio la via di mezzo tra vede si sono bellissime sono proprio la via di mezzo tra un qualcosa che si nota ma che non si nota troppo ok proprio il giusto esatto esattamente il giusto si questa la maglia di questa collana si presenta così questa è facilissima da indossare apprezzerà tantissimo la sua amica qualsiasi sia l'acquisto che lei farà apprezzerà tantissimo guardi si chiude così in maniera molto facile direttamente qui si da questo effetto particolare come le dicevo questa si vede sovrapposto a quest'altra collana è una io la faccio vedere merli ok sono bellissime questa collana questa è proprio una catenina vede con tutti questi anelli intrecciati tra loro, la chiusura sempre così particolare con il simbolo di happiness, come puoi vedere c'è la conchiglia non so se l'avete, provo a fargliela vedere, non so se l'avete cosa ne pensa di queste? le piacciono anche queste? allora compro tutto vuole vedere qualcosa di ancora più sattile? così decide meglio allora sì, anche una collana a quadrifoglio, le faccio vedere, questa è molto molto semplice un bel portafortuna, come compleanno è da regalare, bellissima pure questo sempre della linea happiness boutique, certo molto sottile, questo è proprio, come puoi notare, quasi trasparente la catenina, quindi la semplicità e l'eleganza, esatto a me è una persona che ci tiene, questa ragazza qui, ok, ok, vuole sembrare sempre carina, bella di color, ok poi se ci spostiamo invece nella colorazione oro, ho da farle vedere questa splendida collanina che può essere indossata da sola oppure con un'altra collanina che ora le entro a far vedere le piace questa collana con le stelle, tutta la linea che lei adesso sta guardando è happiness, quindi si vale sempre quel discorso che le dicevo prima se vuole acquistare di più si può fare anche un regalo per lei, anche questa, anche questa sottile, perfetto la può abbinare con questa collana qui, la luna, vede? esattamente esattamente si può comprare una delle due collane oppure entrambe e sembrano bene messe sovrapposte, si esatto, come quelle collane che le facevo vedere prima poi, 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 poi cosa le posso far vedere altro che ho qui sul bancone? questa collanina qui che può essere indossata in questa maniera oppure così gliela faccio vedere meglio, eh? gliela faccio vedere gliela faccio vedere meglio vede? con queste palline qui è bellissima, si 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 a liberanza della scelta beh io fosse lei acquisterei le prime che le ho fatto vedere questa qui questa è bellissima e poi farei alla sua amica un'ulteriore sorpresa con si esattamente con questi due pezzi esclusivi stupendi di happiness che puoi scegliere in varie colorazioni chiaramente però questo non è affatto male cosa ne dice? cosa ne dice? ci pensi un attimo ci pensi un attimo tutto questo qui e quest'altro l'appoggio qui ho preso la decisione? no si le tengo qui a portata di mano insieme a tutti gli altri gioielli così quando viene altra gente può scegliere sa è una linea particolarissima questa di happiness che come vede non ne sbaglio una offre dei prodotti fantastici che ci tengo a precisare non arrugginiscono no 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 non arrugginiscono no io faccio la doccia tranquillamente sono già due anni che ho alcune collane e ci sono mesi da qui non me ne separo e quindi facendo la doccia molto spesso tra l'altro specialmente d'estate non togli le collane no? cioè non stai sempre a togliere le collane finché pigiotteria di quella un po' più scarsa magari ci pensi e le togli ma questi gioielli assolutamente no sono di ottima sono di ottima qualità non arrugginiscono no quindi sarà un regalo perfetto non solo per le sue amiche ma anche per lei le ricordo che può sì esattamente può fare il passaparola con le sue amiche che online c'è lo sconto del 10% con una spesa minima di 29 euro con il codice sconto merigene smr e in più faccio passaparola dicendo agli altri anche che con ordini online di 30 euro potranno ricevere esatto un gioiello con ordine superiore a 70 euro due gioielli sorpresa e con un ordine di 119 euro tre gioielli sorpresa quindi approfittarne sarà proprio il caso visto che sta arrivando Natale si faccia anche un regalo per lei si faccia anche un regalo per lei ha deciso scegli queste ok bene Scegli queste due Ok Perfetto Le faccio il pacco regalo Vedrà come rimarrà contenta la sua amica Nessuno rimane insoddisfatto con happiness La vedo molto felice Mi fa piacere portare sorrisi Perfetto Satisfare la clientela E per me la cosa Mi ha pagato Allora Le preparo il pacco regalo Potrà passare da qui Dopo che avrò terminato Intanto La cassa è di là per pagare Grazie Grazie per essere passata signora Le auguro Buona serata A presto